Squadra che vince non si cambia. Regione e Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo sono pronti a barcare le soglie della 53esima edizione del Vinitali di Verona. L'Abruzzo intende ancora una volta comportarsi da protagonista, a partire dalla presenza delle aziende vitivinicole del territorio 115 e poi le grandi degustazioni, il meglio della cucina regionale e una proposta che vince su tutte, l'abbinamento fra vino e turismo. Dopo l'anno dei 50 anni del Montepulciano d'Abruzzo una grande consapevolezza ancora maggiore rispetto agli anni passati di un Abruzzo che ha qualità e ha capacità di portare i propri vini sulle tavole degli italiani ma soprattutto a livello internazionale. Porteremo un Abruzzo che non è solo vino ma è anche territorio, è anche enogastronomia, un ristorante dove gli chef di tutta la regione dell'associazione Qualità Abruzzo porteranno piatti costruiti con prodotti nostri tipici locali e cercheremo di far capire che l'Abruzzo è un territorio meraviglioso da conoscere direttamente. Lo faremo anche presentando un'app percorsi discoverabruzzo.wine che ci consentirà di favorire anche la visita in Abruzzo di wine lover o comunque di turisti che sono appassionati di enogastronomia. Andiamo a Vinitali con messaggi e segnali positivi, il nostro vino è un vino che cresce negli export, siamo in controtendenza rispetto al resto nazionale segno che c'è una qualità assoluta da parte del nostro vino e quindi andiamo a promuovere come tutti gli anni ancora di più quest'anno con un messaggio unico che è quello di una regione che ha delle eccellenze assolute e il vino che è uno degli ambasciatori dell'Abruzzo dovrà essere soprattutto in un progetto futuro uno di quegli elementi messi a sistema con la qualità dell'aria, con la qualità dell'acqua, con la regione dei parchi, la regione dove l'ambiente e la qualità della vita è altissima e quindi i prodotti della nostra terra e con esso il vino sono delle eccellenze per questo venire d'Abruzzo.